La festa per i 167 anni della Polizia di Stato si sarebbe dovuta tenere il 10 aprile scorso, a pochi giorni dall'anniversario del sisma, rinviata in segno di lutto dopo la morte dell'assistente capo e coordinatrice della Polizia di Stato, Anna Maria Chiacchia, in servizio al compartimento di Polizia Stradale per l'Abruzzo e per il Molise. Una cerimonia celebrativa del 167esimo anniversario della Fondazione della Polizia, che è stata l'occasione per riflettere sul ruolo della Polizia di Stato, soprattutto in un territorio sconvolto e disgregato dal punto di vista sociale oltre che urbano dopo il terremoto del 2009. Ma anche per fare il punto sulla sicurezza nella provincia e nella città capoluogo, dove nelle ultime settimane sono aumentate le situazioni di vandalismo e le riste tra giovani aquilani e stranieri. Segno che la città vive ancora un profondo disagio sociale. Venendo ai numeri, il quadro generale della sicurezza in provincia dell'Aquila è in linea con le dinamiche riscontrate a livello nazionale. Nel 2018 c'è stato un decremento del numero complessivo dei reati commessi, scesi del 9,1% rispetto al 2017. A fare il bilancio delle attività della Polizia di Stato nell'ultimo anno il questore Orazio Danna, che ha illustrato anche i dati delle attività della Polizia Stradale, che ha controllato 42.747 persone e ha rilevato 800 incidenti stradali, di cui 8 mortali. Importanti anche i dati dell'anticrimine. I DAS poi seguiti sono stati 34, 7 gli ammonimenti per stalking, 9 quelli per violenza domestica, i rimpatri con foglio di via obbligatorio 44 e 62 gli avvisi orali. Una festa anche quest'anno nel cuore culturale dell'Aquila, l'auditorium del Conservatorio Casella, per dimostrare la vicinanza della Polizia al mondo dei giovani e alla città intera.